Cosa stavamo dicendo del food porn prima, ma di cosa stiamo parlando ragazzi? Buongiorno. Ultimo giorno di vacanza. Già. Vabbè andiamo a fare colazione. E rieccoci qua, ultimo giorno, ultima colazione. Diciamo che la colazione è sempre la stessa. Padding l'abbiamo preso senza cannella e poi tortina del giorno più solita uva eccetera. Io non ho preso cucchiaino. Ah, me lo prenderò? Che fatica. Hai sempre detto che fai fatica a fare vacanze. Ci facciamo un giretto in centro prima di far ripartire. Sì, ovviamente con tutto il tempo che c'era lei sceglie gli ultimi dieci minuti per girare per negozietti. Eh, l'altro giorno siamo stati in giro a cercare il cappello, oggi andiamo in giro a cercare cose da donna. Sì, sì, eravamo già in giro, te cappello. Eh, i regalini sono lì. Eravamo già in giro, potevi già scegliere e prendere. E invece no. Deve fare tutto di corsa. Lei. Ok, cambio programma. Abbiamo lasciato la macchina, quella dell'auto noleggio. E adesso andiamo a fare il giro in centro, più tranquilli e scialli. Sì, meno male che ci hai pensato all'ultimo secondo. Per scoprire magari che i negoziati sono aperti solo la sera, ti immagini? Come lì tuoi? Non ci pensavi all'ultimo secondo. Bravo, qualcosa c'è. Eh. Beh, sì, chiaro, sono tra l'acca di infima fattura. Guffetti. Leo, ma vai un po'. No, vai tu a Creparea. Sempre di corsa. Sì, conferma un bus. Dovete sapere quel mezzo di trasporto che mi piace di meno tra tutti. Però. Non c'è, sono tante alternative che l'altra volta per i taxi siamo stati alla stecca del sole e non arrivavamo più. Adesso siamo molto a un largo anticipo e arriviamo lì in aeroporto. Sarebbe stato bello fare un giro all'Iconos ma dopo avere la fretta di tornare e trovare il bus, lasciare il bagaglio e uno sbatti allora andiamo direttamente all'aeroporto così in calma. Sai come si dice? Che la pianificazione è la meta della battaglia. Tu hai pianificato? Ma è... No, è o no. No. La risposta è no. Però avevo letto che si poteva lasciare i bagagli e girare nel porto vecchio. Si, l'hai letto all'ultimo secondo. Si. Però comunque avevamo un'oretta e dopo dovevamo stare ancora magari a fare di corsa e non ce la stava. Ci guardiamo poi i negoziati in aeroporto che di sicuro ti pelano vivo però vabbè. Io il mio souvenir l'ho già preso, mi ha regalato questa bellissima culanina. Un po' meglio. Abbiamo raggiunto un accordo che comunque è oro, vabbè, 14 carati. Però comunque era un certo costo. Ho detto vabbè, se tu prendi la culanina io ti prendo il ciondoletto. E così mi hai fatto metà metà? Eh. L'aeroporto con il check-in. Pausa pranzo di fronte all'aeroporto. Ormai panino col tacchino e lui ha preso un... Tortino di riso con semi multigrain. Panina salmone in pane di carruba. Eh, il dolcetto ci sta sempre. E muffin al cioccolato. Buon appetito. Buon appetito. E il muffin? Muffin... Eh. In due? In due. Non fare furbo. Davvi sto muffin. È un po' com'è sto muffin. Spacchiamo. Oh, sembra bello morbido. Buono. Buono. È pure cremoso. Dica mare. Facciamo schifo. Questo non abbiamo mangiato di tutto. Comunque non male per essere il primo posto in cui siamo capitati, vero? Già. Ma non è stato così. 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 Spacchiamo il bagarre e poi finalmente entriamo... Si spera, in qualche maniera. Il bello di viaggiare è oggi. 50.000 folli da portarsi dietro. E viva la burocrazia. Cioè, ci abbiamo messo... Dieci secondi, non stavo filmando perché dovevo cacciare le cose dentro nel carrello per far passare sotto il metal detector. Esatto, sono totalmente veloce. 10 secondi. Capito l'aeroporto di Milano Malpensa? Ci abbiamo messo 20 minuti a Milano. Anche di più, forse. Di più, di più. Ok, questo è l'aeroporto con tutti i prodotti tipici, se si vogliono acquistare. Ovviamente costeranno il triplo che andare a prenderli sulle isole, però buono. Se uno ha voglia, c'è. Poi cosa c'hanno? Pistacchi. Baklava. Greek baklava. Ah, ci sono anche quelli greci. Tutti i baklava che vuoi. Oh, oh, oh. Chupa chups. Chupa chups, chupa chups. Chupa chups. Ma non so mica i greci. Chupa chups. Chupa chups. E poi mi chiede, ma chi è che si compra il vino quando va in viaggio? Cioè, chi è che si compra la bottiglia di vino in aeroporto e si la porta dietro? Evidentemente, se lo trovi sempre, significa che la clientela c'è. E' uno che si porta la valigia vuota apposta per metterci le bottiglie di vino? E poi c'è qualcosa di dichiarare e quando te lo chiedono cosa dici? Vino. 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 Verona. Immancabile. Ok, quindi praticamente di tipico ci sono i dolcetti di baklava e compagni. Ah, ci sono olive. Sottovuoto però. Dove vengono? Quattro euro a un pacco. Cosa prendiamo? Olive e baklava. E lui è trasportatore. Ora si aspetta un'oretta. Rossini spettata. Grazie a tutti. Grazie per la visione! Adesso aspettiamo un po' Mino che viene a prenderci. Fa caldo. Fa caldo. Fa caldo. Allora è arrivato il momento di cambiarla questa valigia? Eh, direi di sì. È piena di buchi, guarda un po'. Ah, però si è buccata nel viaggio. Fantastico. Ok. Grazie mille, grazie mille. Buona serata. Dovete sapere che abbiamo appena finito di sbeffeggiare Radio Maria per il fatto che ci troviamo in un posto sperduto, diciamo. Terra di nessuno, dove non prendono tante radio italiane che piacciono a noi, dove non prende Rete3, Radio Svizzera. E dicevamo, qua non prende niente, tranne Radio Maria, quella prende dappertutto. Detto fatto, perso il segnale con Rete3. Baff! Radio Maria! Radio Maria Manetta! La persecuzione ragazzi! Eh, la giornata non finisce qui. Andiamo a mangiare? Indovinate cosa? Provate a indovinare! Eh... Vegano? Vegetariano? Macrobiotico? Fruttariano? Eh... Neozelandese? No! Giapponese! Dopo se ci sono andati di greco, ci vuole il giapponese, no? Eh... sì... Però ne mangiamo poco poco poco. Eh... Come è andato? Cioè, è andato a vacanza o no? Sì, siamo appena atterrati dalla Grecia, siamo venuti fuori con qua. La Grecia è andata pure, no? Eh, sì, è mai. Avevi detto che non avevi fame e che volevi tenerti leggero perché ci siamo sfondati come non so cosa questa settimana col cibo e adesso mi hai detto che vuoi comandare quasi 5 piatti? Sette, mi sa. Tu pensi una cosa ma il tuo stomaco non dici sempre un'altra? Eh... sì, è lo stomaco che comanda. Lo stomaco che comanda. Il problema è che comanda male, proprio dopo arrivi in casa e esplodi, no? Eh... sì. Sono soltanto vittima del caos che alberga dentro di me. Ok, caos. Come vuoi chiamarlo? Verme solitario? Non ce l'ho. Magari è letargo, però ogni tanto viene fuori. Sì, secondo me se avessi il verme solitario a questo punto mi avrebbe già detto... Ah, ma sto mangiando troppo! Basta! È tornata con la roba strana, Lila. Sì, è pieno infiltrato. Notare com'è, con tutto il deposito sul fondo. Ah, ma che meraviglia! È praticamente latte! Dolcissimo! Praticamente succo di frutta! E questo è te verde al gesso mino della Occa. Arrivati gli akisaba con pollo, takoyaki e ravioli. Buon appetito! Buon appetito! Adesso ci siamo! Grazie caro! Ecco, ricordatevi che quando uno non ha fame, si comanda la barca. In qualche modo siamo arrivati alla fine. Oh, bevi sa che! E questi ce li portiamo a casa perché sennò non ce la facciamo mica, eh. La graccia ci ha aperto lo stomaco, questo non va bene. Ok, cena finita. Non so se torna a casa. Esatto, andiamo a riabricciare i gattozzi. Oh, rigatoni! Ciao! Ciao! Tornati! Ciao, Arino! Torni, amori! Ciao, bello! Ho un po' di baclavà? Mi preferirebbe il baccalà, lui!